Rai Radio 2 presenta No Women No Music, quando la musica pop incontra la musica classica. Protagoniste della serata, Big Mama con l'orchestra Olimpia, per uno spettacolo fatto di impegno sociale e inclusività. Un evento in collaborazione con Pesaro, capitale della cultura 2024, e la fondazione Una Nessuna e Centomila. Tanti ospiti, grande musica, grandi temi. Questo è No Women No Music. Domenica 7 aprile, dalle 21, su Rai Radio 2 e anche in TV sul canale 202 del Digitale Terrestre.